Ciao a tutti, allora come ho annunciato ho fatto i capelli ho fatto una schieritura con la tecnica del balayage ovviamente sotto dove avevo già la decolorazione sono venuti più sul fucsia mentre sopra sono ancora un po' da pigmentare sono molto soddisfatta se contate che c'era un colore nero io avevo un colore nero stratificato da molto molto tempo quindi sono molto soddisfatta man mano farò gli shampoo e quindi questo andrà a pigmentarsi con l'uso del balsamo colorato ma sopra dovrebbe somigliare sempre di più al sotto allora perché come sapete il balsamo colorato a differenza del colore non stratifica subito stratifica dopo un po' per ovviare a questa questa situazione per quindi per poter ottenere un risultato più uniforme ho preso due tipi di balsami colorati sono andata da capillo point ho preso il pinchissimo della crazy color che è molto molto pigmentato e il magenta della oyster e con questi due il magenta è un colore meraviglioso cioè semplicemente meraviglioso favoloso sono tutti e due colori molto belli poi ho comprato anche le ciglia finte che metterò sabato per la festa poi sono stata da Kiko perché dovevo comprare un eyeliner perché ho finito il liner in realtà mi hanno fatto vedere questo multicolor glitter che è un eyeliner waterproof è bellissimo semplicemente me l'ha fatto vedere la ragazza spero di riuscire a metterlo e sarebbe il numero 06 ed è un grigio glitter è bellissimo non so se riuscite a vederlo è stupendo comunque è un grigio glitter fantastico ed è una penna eyeliner waterproof quindi spero di riuscire in più mi ha fatto provare un prodotto che Vinci fa abbastanza schifo ma è della nuova linea skin trainer che è la nuova linea di Kiko questo qua serve per le occhiaie praticamente è una sorta di balsamo schierente io spero di riuscire a farlo funzionare perché ho le occhiaie veramente ragazzi in questo momento non sono quasi truccata ho le occhiaie uno schifo uno schifo semplicemente quindi spero che funzioni lei mi ha detto che funziona voglio vedere lo proverò e vi farò sapere bene intanto siccome oggi è l'8 marzo volevo augurare buona festa alle donne a tutte le mie amiche tutte le donne io spero e vi auguro un mondo di serenità soprattutto che sia la vostra festa ogni giorno quindi io vi saluto vi ringrazio per aver guardato il video al prossimo video ciao